per la battuta di caccia oggi abbiamo portato due canne una yunkoro che è una canna della seica tubertini che conoscete già 2 metri 25 a cui ho abbinato un mulinello icon 4000 con cui ho già fatto anche altri video ed è un mulinello veramente prestante ma abbiamo soprattutto la grandissima novità dell'api power 4000 un mulinello che è uscito veramente da pochissimo in casa tubertini già avevamo il modello 6000 8000 e ora è uscito questo piccolo gioiellino che sono veramente curioso di provare ma so già come andrà a finire questo mulinello l'abbiamo montato su una yunkoro 2 metri e 40 poi la casa tubertini fa anche un'altra versione di yunkoro della 2 metri e 70 che oggi però non abbiamo portato la domanda che solitamente si fa è quale è la migliore la verità è che la lunghezza è una una cosa che va provata da persona a persona quindi non esiste mai una canna migliore ma andiamo a provarle vediamo qual è che ci piacerà di più